in questo video vedrete il tutorial per questo trucco è un trucco realizzato quasi tutto con i prodotti dell'ultima collezione uscita dalla pupa e jeans and roses è una collezione che ho adorato da subito perché ha dei colori stupendi colori che mi piacciono molto colori primaverili voglio darvi uno spunto io ho scelto quasi tutti i colori solo rosa però potete fare lo stesso lavoro diciamo tecnico anche con i con i blu eccetera alcuni dei colori che volevo prendere di altre cose non c'erano volevo la matita blu eyeliner diciamo blu però non c'era più l'ombretto blu lo stavo per prendere però mi è sembrato un poco troppo poco scrivente e poi volevo provare anche l'altro blush e non c'era più insomma anche lo smalto verde prato alcune cosine non c'erano più però vabbè ho preso quello che mi è piaciuto di quello che c'era e trovo tutto stupendo trovo inutile dirsi che la pupa abbia una buonissima una buonissima qualità ultimamente la sto rivalutando parecchio spero che vi piacerà mi lascio al tutorial non c'erano più 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il trucco finito, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!